Ciao, sono Serena D'Alessio, chef e imprenditrice. Da un po' di tempo a questa parte mi sono successe delle cose che mi hanno fatto molto riflettere su tanti aspetti della vita. Dopo tanti anni passati in una cucina del ristorante, sono passata a fare dei video di cucina. Perché? Perché innanzitutto ho sempre avuto una grande tendenza a comunicare quello che faccio, insomma chiacchierona. Ritengo che sia utile raccontare qualche mio segreto di cucina anche quando sia semplicemente a casa con qualche amico. E quindi eccomi qua che racconto la mia esperienza, le mie ricette, le mie tecniche, il mio modo di pensare, il mio modo di vedere anche un po' la vita. Perché comunque potrebbe essere un po' una metafora della vita, da un ambiente chiuso come quella della cucina a un ambiente aperto, quello che può essere il web. E allora continua a seguirmi sui canali social e su YouTube. Grazie a tutti!